Santo è il trafficante più ricercato del Brasile, un assassino, è una specie di guru, molto pericoloso. Sappiamo solo che lo chiamano Santo. È a Madrid. Ernesto Cardona, Polizia Federale del Brasile. Voglio aiutare. Potrebbe chiuderli, così possiamo vederli. È la firma di Santo. Non ho mai visto la sua faccia. Nessuno la conosce. È lui Santo. Non è lui. Come lo sa? Perché l'ho ucciso. Perché i bambini? Perché al mondo non c'è nulla di peggio. Perché ci terrorizza, però trafica droga. Non è un narcotrafficante per i suoi seguaci. È come un padre, un leader, quasi un dio. Sta venendo a cercarci. Ho preso Barbara e lui non me lo perdonerà. Lascia che ti aiuti. Noi crediamo di stargli addosso, ma in realtà è lui a stare addosso a noi. È inutile che lo cerchi. Tanto non riuscirai a trovarlo. Dimmi, dov'è Santo? È ovunque, non lo avverti. Va grasato. Noi credi a di questo tlantico. Non è nostro пер inicialmente.